Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi finalmente come primo video dell'anno volevo raccontarvi un po' il meglio del 2019, ovvero i miei libri e graphic novel preferiti dell'anno scorso perché secondo me ci sono cose meravigliose che io ho letto ed è magari giusto riassumerle tutte qua per poi iniziare un 2020 di letture che spero siano incredibilmente meravigliose ovviamente giù nell'info box come sempre trovate tutti i link ai libri che citerò e l'affiliazione ad Amazon nel caso siate interessati a supportare il mio canale acquistando tramite questi link, se non ancora non l'avete fatto in più ovviamente tutti i miei collegamenti ai social, se volete seguirmi anche fuori da YouTube mi raccomando soprattutto su Instagram perché gli altri devo dire che non è che li uso molto, ma vabbè in ogni caso direi di iniziare che abbiamo già perso troppo tempo questa non è una classifica perché ho capito negli ultimi anni che fare una classifica è un po' una cavolata per me perché comunque questo è stato un anno che sinceramente è stato molto strano dal punto di vista delle letture mi sono tenuta a chilometri di distanza da alcuni libri che già sapevo che non mi sarebbero piaciuti quindi non ho grandissime letture diciamo terribili, cioè ce ne sono, non mancano mai anzi quest'anno veramente ha raggiunto dei punti bassissimi però devo dire che comunque in generale è stato un anno di letture abbastanza buono tanto che Goodreads mi ha detto che sono stata così generosa ad avere un punteggio medio di 3.6 che per me è molto alto rispetto alla media degli ultimi anni però ci sono stati diversi punti secondo me molto alti quindi sono qua a raccontarvi un po' che cosa ho letto che mi è piaciuto davvero tanto parto dalle graphic novel perché secondo me quest'anno ho avuto la fortuna di recuperare alcuni titoli bellissimi e di leggere invece delle nuove uscite e ragazzi io sono super super contenta di parlarvi di questi titoli il primo titolo che vi voglio raccontare è sicuramente Le Malerbe è una graphic novel che mi ha mandato gentilmente Bao Publishing dedicata a una questione diciamo molto poco conosciuta probabilmente che è quella dei campi di concentramento chiamiamoli di lavoro forzato e anche dei campi di piacere che erano fondamentalmente dei lager dove venivano racchiuse le donne coreane rapite insomma che non avevano altre alternative eccetera per compiacere i soldati e questa è una storia secondo me estremamente toccante ma non solo anche molto educativa questo volume riesce a comunque costruire, pennellare piano piano anche un contesto sociale un contesto socio-economico per farci capire come nascono questi luoghi che hanno costretto anche alla morte migliaia e migliaia e migliaia di donne che non avevano alcun diritto e che erano praticamente utilizzate a proprio piacimento dai soldati e non solo e la storia della nostra protagonista riesce ad immergerci proprio in tutto quello che accadeva attorno che è una storia che probabilmente noi conosciamo poco per noi la storia del Novecento in Asia probabilmente corrisponde a qualche occhio di bue puntato su alcuni avvenimenti ma per il resto ne siamo molto molto ignoranti a mio parere o almeno io mi sento sempre così quando ho a che fare con le questioni asiatiche e questa storia è stata molto interessante, molto toccante non è il classico volume che racconta una storia straziante e basta riesce comunque a dare una prospettiva a darti quel contesto che ti serve per muoverti un po' più agilmente all'interno di questa storia è una storia raccontata dal passato che chiaramente ha a che fare con tantissime tematiche come quella dell'identità, come quella della questione femminile soprattutto in Asia e in Corea in questo caso ci troviamo proprio di fronte all'esplorazione di che cosa vuol dire essere se stessi in un mondo dove la tua identità, la tua persona, il tuo corpo non ti appartiene in nessuna maniera secondo me è molto molto interessante, anche molto toccante però sicuramente è quella che io definirei una graphic novel anche educativa e ve la suggerisco perché è veramente una lettura molto molto appassionante con questi tratti di pennello quasi a china proprio che graffiano la pagina e ogni tratto di nero perché è tutto in bianco e nero ogni tratto che corrobora la pagina è come se fosse una piccola ferita una ferita che colpisce la nostra protagonista è veramente molto molto intensa e quindi se volete una di quelle storie che forse sono molto adatte a ragionare sulla condizione femminile non fatevi scappare le malerbe questo è stato anche l'anno dove io ho letto una graphic novel che vi ho consigliato penso in lungo e in largo in qualsiasi video che è Il Principe e la Sarta e devo dire che io apprezzo moltissimo come in generale le graphic novel negli ultimi anni stanno trattando alcune tematiche legate all'identità di genere all'orientamento sessuale e alla scoperta della propria identità in generale e alla definizione di se stessi li trovo sempre dei metodi molto efficaci per trattare e raccontare storie che di solito nei romanzi per me sono molto pesanti oppure troppo 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 incentrate solamente sulla tematica come se la propria identità di genere o il proprio orientamento sessuale siano le uniche cose che definiscono questi personaggi invece non lo so nelle graphic novel per me c'è questa forza questo riuscire a bucare le pagine in una maniera più dinamica molto più leggera e comunque efficace e comunque lasciando passare dei messaggi molto molto importanti in una maniera assolutamente pulita veloce chiara senza risultare mai pietistici senza risultare mai estremamente opprimenti anche per il lettore forse che è l'ennesima storia non so nei romanzi io mi sento anche un po' a volte allontanarmi da queste letture invece nelle graphic novel le cerco continuamente e comunque tutto ciò è per dirvi che il principe e la sarta è una di quelle storie che secondo me è giusto che fosse scritta così disegnata in questo modo perché la nostra autrice riesce a dipingerci una storia di come un principe che fondamentalmente dovrebbe occuparsi di tante altre cose esplora la propria identità e nella propria identità c'è anche diventare Lady Cristallia che per lui è la maniera migliore per poter diventare insomma un unicorno una creatura mitica leggendaria bellissima e lo fa insieme alla sua piccola sarta che di nascosto senza che nessuno lo sappia esplora il suo talento creando i meravigliosi abiti di Lady Cristallia e ci saranno tante cose complicate tra di loro soprattutto e secondo me è anche importante per capire che non sempre ciò che è l'identità poi corrisponde all'orientamento sessuale e non sempre anche i rapporti tra le persone sono semplici hanno quelle piccole complicazioni che forse mentre noi stiamo esplorando la nostra identità ci dimentichiamo che insomma c'è anche qualcun altro in mezzo perché siamo troppo concentrati su noi stessi a me questo volume l'ha ricordato molto e oltre ad essere divertente toccante anche in alcuni punti ma in maniera comunque leggera perché sai che bisogna andare avanti bisogna completare questo percorso e farlo insieme ai nostri protagonisti è stato molto divertente ed è una di quelle graphic novel che sicuramente ti rimane nel cuore anche perché ti lascia sia un piccolo momento di esplorazione di qualcosa che magari non conosci ma soprattutto che ti dà la possibilità di farlo in una maniera leggera una maniera glitterosa direi è bellissimo 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 ve lo consiglierò sempre il principe e la sarta anche questo è edito da Bao Publishing rimanendo in tema Bao io ero convinta di averlo letto l'anno scorso poi mi sono ricordata che in realtà anche se mi sembra che sia una storia che sia con me da sempre Cinzia è l'arrivata del 2019 Cinzia è ufficialmente il mio personaggio preferito di sempre dopo questa graphic novel ho i brividi a raccontarvelo in questo momento non sto scherzando Cinzia è arrivata in un pacchetto mail insieme ad altri ad altri volumi altrettanto belli ma che non mi lasceranno mai il segno come ha fatto Cinzia è di Le Ortolani ovviamente ve ne ho parlato in lungo e in largo la cito continuamente ma nessuno tocchi Cinzia mai e per sempre questa è la graphic novel secondo me più importante interessante e divertente straziante è un mondo a sé Cinzia Cinzia è una persona incredibile perché riesce a raccontarci la sua storia che è straziante perché è una storia vera fondamentalmente è una storia di microaggressioni quotidiane e non solo microaggressioni magari fossero solo quelle però lo fa con il sorriso lo fa con ironia e lo fa soprattutto con la convinzione che il proprio destino comunque lo sceglierà lei e non importa chi si metterà di mezzo non importa quanto anche dovrà scendere a compromessi comunque la sua storia è in mano sua e Cinzia è il personaggio più potente che io abbia mai incontrato in una graphic novel e sono contenta di averlo fatto e di portarlo con me e sono molto felice che Le Ortolani abbia scelto di darle un po' di giustizia dopo averla maltrattata in tanti volumi di Ratman e questo è sicuramente il volume che io consiglierò a chiunque mi porterò dietro per sempre Cinzia ora è lì perché è diventata parte della mia sezione delle cose sacre e credo che la porterò per sempre con me quindi insomma leggete Cinzia se non l'avete mai letta perché è un bene per voi diventate delle piccole macchie anche voi e perché insomma siamo fatti soprattutto di cose che non comprendiamo non conosciamo e dobbiamo esplorare Cinzia lo fa con un'attitudine una dinamicità è anche una convinzione che per me sono state la fonte più grande di ispirazione di quest'anno quindi sicuramente Cinzia rientra nell'Olimpo ma non solo di quest'anno per sempre dei personaggi che mi sono diventati più cari e quindi chiaramente non può che essere in questa classifica e io non posso fare altro che sproloquiare ancora su Cinzia perché è veramente il personaggio che più mi ha chiambiata quest'anno e più mi ha ispirata e quindi chiaramente non può che essere in questa classifica che non è una classifica sempre parlando di fumetti altro volume che per me è stata una rivelazione è la mia adolescenza trans di fumetti brutti che cercavo da tempo che avevo rimandato poi un giorno sono andata a una presentazione di un altro volume di Bao che in questo caso è di Giulio Maccaione che è Alice di Sogno in Sogno e l'ho visto in libreria da Igor qua a Bologna e ho detto vabbè è l'occasione per prenderlo finalmente alla fine della presentazione mi ci sono buttata mentre ero in fila per farmi firmare il volume e mi ci sono innamorata la mia adolescenza trans è una storia autobiografica quella di Iole che esplora le sue questioni risolte in un tratto molto grezzo molto rude con queste immagini proprio dei flash delle cose molto quotidiane che hanno molto a che fare con la sessualità e non solo perché comunque ho capito che questa non poteva essere che una storia di tratti incerti anche un po' tremolanti che però avevano ben chiaro che cosa volevano rappresentare a volte c'era la confusione in questi tratti a volte c'era l'incapacità di renderli più nitidi più netti forse c'era bisogno di mischiare alcune cose di immergersi in queste acque e acque che spesso però hanno a che fare con i liquidi corporei perché tramite quelli Iole ha capito tanto di se stessa e lo ha cercato di raccontare in qualcosa che secondo me allo stesso tempo definirei molto Tumblr ma dall'altra parte estremamente universale quindi secondo me lo stile di Iole è molto contemporaneo la sua è una storia fondamentalmente fatta di tante cose che ha capito forse che ha capito tardi in un contesto diverso in un contesto che non è quello di origine però che le ha dato la forza di capire è stato veramente potente farlo questo è un volume potente perché è un volume che parla di cose quotidiane parla di frammenti di storia come noi li possiamo vivere in adolescenza sicuramente con la nostra storia è diversa da quella di qualsiasi altra persona però rivedere queste cose pur avendo una storia completamente diversa da quella di Iole è qualcosa in cui mi sono ritrovata anche nell'avere il coraggio di mettere così tanto a nudo una parte di se stessa che io sono certa sia stato complesso e sono certa che sia stato molto doloroso soprattutto avendo a che fare con persone che in primis non ti capivano non ti rispettavano però volevano da te qualcosa e trovo davvero coraggiosa Iole e trovo questo volume la mia adolescenza trans qualcosa che doveva arrivare a me è arrivato nel momento più giusto e io sono molto contenta di averlo letto davvero una delle letture più intense e anche tema di discussione di quest'anno almeno nell'ambiente fumetti per me e quindi grazie anche a fumetti brutti per questo volume se però scludiamo un attimo Cinzia perché comunque è uscito l'anno scorso e io non so perché ci sono arrivata così tardi mi vergogno davvero tanto però è arrivata nel momento giusto diciamo l'altro libro che sicuramente è in cima a questa classifica è Libia di Francesca Mannocchi e Gianluca Costantini è edito da Oscar Inc ed è un volume che è stato strano è un'esperienza strana e complessa nel senso che io sono una grandissima fan di Francesca l'ho conosciuta seguendo i suoi report della Libia e la trovo una di quelle giornaliste che sono così appassionate del proprio lavoro che davvero le ho visto riprendere delle scene in Libia mentre sparano di fianco a lei mentre ci sono dei mortai che continuamente lanciano degli attacchi al fronte nemico nella guerra civile libica e penso che lei abbia un coraggio e una determinazione incredibile ma soprattutto riesce a trasmettere a chiunque la guardi non solo la passione che lei ci mette nel suo lavoro ma soprattutto ha una chiarezza unica riesce a spiegare contestualizzare e rendere molto chiara e tangibile la situazione libica anche e soprattutto evidenziandone le contraddizioni e le difficoltà e io penso che l'informazione abbia bisogno di più Francesca e Mannocchi perché ne abbiamo veramente la necessità in un momento dove si parla tanto di notizie flash notizie news ma non si fa mai approfondimento non riusciamo mai a contestualizzare le cose ne abbiamo solo una grandissima percezione spesso sbagliata ecco Francesca fa tutt'altro Francesca crede in un tipo di giornalismo che vuole innanzitutto informare che è la prima direi regola del giornalismo insomma il primo obiettivo che dovrebbe fare e leggere Libia è stata per me una bellissima esperienza nonostante sia un volume che ti tocca profondamente perché insomma in questo volume noi esploriamo la storia libica da prima della caduta di Gheddafi e quindi che cosa voleva dire vivere sotto un regime e quanto alla fine fosse difficile viviamo l'esperienza dei campi di concentramento che già comunque esistevano poi ne vediamo la caduta e che cosa è successo dopo la caduta noi dopo la caduta assistiamo invece allo sfaldamento di tutta la società della rete sociale che era stata instaurata da Gheddafi e ciò che viene dopo non è né meglio né peggio è semplicemente ancora più caotico e questo ha portato alla situazione attuale e tramite questo volume molto semplice seguiamo tanti personaggi tante storie e non so io rimasi molto impressionata da un report di Francesca dove lei promise alla persona che intervistava che la sua storia sarebbe stata vista e ascoltata da qualcuno e che lei avrebbe fatto tutto per raccontarla e io trovo che questo volume sia esattamente questo la promessa di raccontare alcune storie spesso nascoste ignorate e che molti magari non sentono neanche la necessità di leggere e quindi Libia è un volume che è tante cose è tante storie è tanti racconti è una grande esperienza è una grande volontà la determinazione nel portare queste storie al grande pubblico e io ve lo giuro che il mio sogno più grande di questo 2020 è intervistare Francesca ve lo dico e sarebbe veramente la cosa più bella perché ho una stima immensa per Francesca e leggetelo leggetelo è sicuramente un volume che siate interessati alla questione libica che non ve ne freghi niente leggetelo leggetelo perché ne uscirete ricchissimi rispetto a prima vado avanti e passiamo invece ai romanzi in generale quest'anno devo dire ho realizzato due sogni nel senso che attendevo tantissimo due libri in particolare e quei libri non mi hanno deluso quindi ce li teniamo per ultimi partiamo un po' dalle varie letture parto dall'inizio dell'anno quest'anno è uscito With the Fire on High di Elisabeth Attevedo a gennaio io purtroppo la amo trovo che lei sia la scrittrice e la poetessa per giovani adulti migliore che gli ultimi anni abbiano sfornato lei è veramente ciò che secondo me è avere una voce unica perché non importa il fatto che sia una minoranza ma proprio che lei ha una voce riconoscibile distinguibile racconta delle storie che sono interessanti e importanti da ascoltare e da leggere ovviamente e mentre The Poetics secondo me è qualcosa di dirompente è qualcosa che veramente io ho letto con una foga che non avevo da tanto tempo è per me geniale bellissimo toccante è intenso è anche molto caratteristico di ciò che è la sua scrittura è scritto in versi è qualcosa di strano soprattutto nel mondo young adult però racconta una storia quotidiana e una storia che a me è rimasta molto nel cuore quest'anno invece si è cimentata nella scrittura più classica quindi nel romanzo vero e proprio e per me era una prova di grande forza per lei nel senso che comunque sarebbe stato interessante vederlo in questo nuovo mezzo ecco With the Fire on High conferma questa sua grande forza la forza nell'illuminare delle piccole scene quotidiane per raccontare ciò che sta dentro ai suoi personaggi e riuscire a dipingere soprattutto storie un po' di serie B quelle dove non ci sono i principi non ci sono le grandi venute dal cielo ma anzi dove i suoi personaggi trovano loro stessi la propria voce la propria forza e riescono a capire cosa fare nel mondo senza aiuti esterni ma dandosi la forza da soli e questo secondo me è estremamente importante i suoi sono messaggi che nascono sempre non dalle migliori occasioni o dalle situazioni sicuramente più privilegiate più interessanti da raccontare lei racconta ciò che sta nell'ombra lei racconta ciò che sta nei quartieri peggiori ciò che sta negli angoli bui ecco e i suoi personaggi sono così vivi che sono dei quadri tutti i suoi personaggi secondo me finiscono per essere persone che tu vuoi conoscere che vorresti avere come amiche ed è la sensazione che io ho avuto anche alla fine di With the Fire on High e questa secondo me è davvero una delle più grosse scoperte dello young adult in generale questo dovrebbero fare tanti scrittori che scrivono per ragazzi dovrebbero essere Elisabeth a se vedo ma per fortuna ce n'è una che scrive bene e che ha una voce molto distinguibile altro volume che chiaramente non poteva non essere in questa classifica è il priorato dell'albero delle arance ovvero The Priory of the Orange 3 di Samantha Shannon ovviamente che è uscito anche in Italia meno male e io lo trovo il volume fantasy migliore di quest'anno se escludiamo i due finali perché chiaramente Samantha Shannon ha una scrittura estremamente piacevole è molto brava nella costruzione di un mondo così complesso come quello che abbiamo letto in questo epic fantasy molto molto inusuale per alcuni versi anche se per altri rispetta pienamente il canone e trovo che Samantha Shannon abbia dipinto un mondo estremamente vasto complesso con intrighi politici incastri di trama piccoli sotterfugi molto interessanti ed è stato un volume che io ho letto in tantissimo tempo ci ho messo tantissimo perché mi arrivò l'arc di Bloomsbury a dicembre e l'ho finito quasi a fine gennaio e comunque è qualcosa che secondo me per chi è molto appassionato del genere per chi comunque vuole introdursi anche al mondo del fantasy con qualcosa di accessibile comprensibile e universale questo è un volume perfetto seguiamo tre protagoniste che secondo me sono tinteggiate almeno due di esse molto bene una trama appassionante insomma per chiunque sia come me molto affascinato dagli intrighi politici questo è un libro perfetto e quindi sicuramente è una cosa che non potevano stare in questa classifica perché è un ottimo fantasy un fantasy costruito bene con ponderato con un'ottima scrittura e quindi chiaramente non poteva che finire qua andando avanti nel corso dell'anno la lettura che sicuramente metto in questa classifica è Trenny di Laura James Gray perché di nuovo sì effettivamente in questo in questo anno ho letto tanto sull'identità di genere e quasi tutti sono finiti in questa classifica ok comunque Trenny è l'autobiografia dell'autrice che in questo caso aveva una band e ha una band tuttora che per me è stata parte della mia crescita perché gli Against Me sono una band che io ho seguito parecchio e quindi leggere anche la sua storia capendone le difficoltà e le motivazioni che in alcuni punti sicuramente evidenzia perché comunque essere una persona transessuale nell'ambiente punk nell'ambiente punk rock eccetera è complesso nonostante insomma dovrebbe essere un ambiente assolutamente molto accogliente e anzi aperto a queste istanze comprendo ogni parola di difficoltà e frustrazione di loro allo stesso tempo è stato molto intenso interessante vedere come la propria musica la propria carriera andasse sempre meglio quindi si espandesse si ingrandisse e per alcuni versi chiaramente portasse a soddisfazioni enormi però dall'altro lato come invece la vita personale i rapporti personali e interpersonali si andassero a sfaldare a frantumare così come l'identità stessa della nostra protagonista della nostra allora e quindi è un volume che secondo me soprattutto se siete molto appassionati di musica come sono io è necessario è qualcosa che vi insegnerà qualcosa è un volume che comunque ripercorre un percorso musicale che si unisce si lega tantissimo alle vicende personali e questo secondo me è qualcosa che chiunque ami questo genere ami la musica in generale eccetera si esalterà moltissimo è bellissimo è veramente molto intensa come storia soprattutto perché è una biografia è stato coraggiosissimo io ringrazio un sacco Tsunami Edizioni che me ne mandò una copia e sono stati provvidenziali perché io non ne sapevo nulla è colpa mia e ora mi sento molto più ricca dopo averlo letto e quindi ve lo consiglio chiaramente perché è bellissimo poco dopo tre anni ho letto anche The Beauty Queens di Libba Bray altro volume che vi ho consigliato numerose volte quest'anno lasciate stare la copertina lasciate stare il titolo di questo libro so che questo sembra tutto ciò che non è perché ci troviamo ad avere a che fare con una serie di reginette di bellezza che dopo un incidente aereo si ritrovano isolate tutte insieme su un'isola deserta detto così le premesse sono già fastidiose sembrano già la cosa più banale becera dell'universo questo volume è prezioso come poche cose lette quest'anno perché? perché in realtà il contesto delle reginette di bellezza quelle atroce copertine e quant'altro nascondono una perla una perla che sta nei rapporti umani che Libba Bray racconta in questo volume perché ci troviamo in una situazione ovviamente assurda estremizzata eccetera ma dove scopriamo che dietro le reginette di bellezza si celano delle identità delle particolarità che non potremmo mai comprendere se non leggendole conoscendole i rapporti che scoprono stringono queste ragazze sono perfette nel tinteggiare anche l'universo femminile a mio parere fatto di grandi complessità questioni irrisolte fatto anche di scoperta di sé affermazioni squilibri a volte e soprattutto anche tanti dubbi tante domande eccetera che le ragazze in questo caso scoprono soprattutto diventando amiche tra di loro scoprendo un po' di più l'una dell'altra è bellissimo questo libro è qualcosa che non posso non suggerirvi e non annoverare tra le migliori letture di quest'anno perché è un libro incredibile non gli avrei dato un centesimo e invece mi sono sentita rapita dall'audiobook subito appena iniziato perché nonostante sia scritto in una maniera anche un po' particolare con degli intermezzi molto divertenti molte gag che non mancheranno all'interno del libro però soprattutto la cosa più preziosa è scoprire i rapporti tra le ragazze c'è tantissimo dentro c'è identità di genere scoperta di sé orientamento sessuale c'è situazioni familiari contesti ci sono difficoltà ci sono dubbi turbamenti c'è la gioia di stare insieme la scoperta dell'amicizia cioè è potente questo libro non so è ingiusto che abbia questa copertina e che sembri una roba atroce ma in realtà è per me ad ora non ho ancora letto The Diviners ma sicuramente è una delle cose migliori scritte da Libba Bray assolutamente e ve la suggerisco tanto prima di arrivare in fondo alla classifica diciamo lo mettiamo al terzo posto ecco sul podio ma non nell'Olimpo sicuramente uno dei libri che secondo me è stata una scoperta quest'anno è La straniera di Claudia Durastanti che ho letto mentre ero incuriosita dalle uscite candidate al premio strega e non ha vinto chiaramente ma non avevo dubbi però quello della Durastanti secondo me è stato il percorso più interessante e sperimentale che io abbia letto molto più che Fedeltà di Miss Siroli e quant'altro quello della Durastanti è una sorta di autobiografia romanzata chiaramente ma soprattutto dove il tema portante è il confine è il l'appartenenza è qualcosa che è un desiderio molto forte da parte dell'autrice chiaramente di trasmettere come lei non si sentisse mai padrona di casa proprio che non avesse una vera casa ma che fosse sempre straniera in ogni luogo è un tema ricorrente pur balzando da una tematica all'altra da un luogo all'altro eccetera eccetera è estremamente chiaro e limpido come i confini in questo volume non siano mai nitidi come siano sempre qualcosa che metta alla prova la nostra protagonista attraverso i rapporti familiari i rapporti amorosi il viaggio il lavoro non ci sia mai qualcosa di definito di chiaro una sorta di stella polare che guida un po' Claudia durante la sua crescita e allo stesso tempo anche un luogo in cui tornare ecco non c'è mai un luogo in cui tornare c'è sempre un momento in cui spostarsi trasformarsi imparare portare con sé anche tutto il proprio bagaglio che non si è mai elaborato e riutilizzarlo per l'adattamento e forse l'adattamento e anche il non adattamento allo stesso tempo è la cosa che riesce meglio a Claudia e io trovo che in questo volume ci sia veramente qualcosa di interessante non solo l'esplorazione di un concetto ma anche l'esplorazione dal punto di vista letterario del concetto dell'essere stranieri del non appartenere del non aderire del non essere conforme del non riuscire a essere incasellato e in questo caso secondo me questo volume lo fa moltissimo la sua è una storia assurda per certi versi una storia complessa è una storia che ha a che fare con delle difficoltà per me insormontabili da alcuni punti di vista dal non avere anche degli appigli dei punti fermi nella famiglia stessa ma l'essere sempre insomma in evoluzione per me è stato il migliore del premio strega non ho dubbi e anche se so che forse non ho un'opinione estremamente condivisa però lo trovo la lettura più interessante di quest'anno anzi io chiaramente lo inserisco qua con grande convinzione perché l'ho trovata una delle letture più ispirazionali da un lato ma anche un viaggio dentro il proprio concetto che è molto riuscito per me e quindi insomma non può che finire qua arriviamo alla top 2 cioè nel senso di una di questi vi ho già fatto la recensione nell'altro spero esca molto presto devo solo raccogliere i pensieri e cercare di metterli in ordine in fila ma è complesso perché sono molto felice di confermare che queste due che erano le mie due uscite dell'anno sicuramente si siano confermate all'altezza delle mie aspettative anche molto di più di ciò che io pensavo e volevo ecco il primo chiaramente non sorprenderà nessuno ma è The Ninth House di Libard Hugo e quindi la nonna a casa che uscirà l'anno prossimo in italiano per fortuna allora la nonna a casa è stato tutto ciò che io non mi aspettavo perché in questo caso Libard Hugo ha fatto qualcosa di molto strano e molto inusuale perché intanto è un fantasy per adulti è un urban fantasy con tanti elementi mystery, horror dark academia realismo magico insomma ci sono tante cose all'interno di questo volume è un volume ricco è un volume cupo è un volume molto atmosferico che tinteggia proprio il suo piccolo universo passo per passo e tu lettore con la scrittura è come se davvero ti introducessi piano piano in questo mondo iniziassi a imparare a muoverti a conoscerne i vari aspetti un po' come succede alla nostra protagonista la scrittura della Bardugo in questo volume raggiunge degli apici secondo me mai toccati e comunque ci aveva già abituato a delle cose incredibilmente meravigliose La Nona Casa è un volume pieno della sua mitologia pieno di tutti questi elementi magici e non solo di creature popolato da elementi soprannaturali e non solo è meglio di tutto ciò che io mi aspettassi ci ho messo tanto a leggerlo è un volume che ti sfianca perché procede lentamente davvero costruisce il suo mondo piano piano insieme al suo mondo ne scopriamo i misteri insieme ai suoi misteri scopriamo i personaggi c'è un volume davvero inusuale è un volume che chiaramente non è trascinante dal primo momento dalla prima pagina ma più ci si addentra dentro questo mondo e dentro questo libro più è difficile uscirne più è complesso capire se alla fine vogliamo uscirne o no e io non credo e trovo l'abilità di Libardugo nell'avere dipinto tutta questa oscurità questo mondo cupo ma non solo cupo come atmosfera proprio nei sentimenti in quello che vuole dipingere che fondamentalmente è rappresentare i lati oscuri della nostra società e come l'oppressione sia il motivo scatenante di queste differenze di questi contrasti di queste cose nell'ombra ecco questo shadow business che lei aveva già messo in piedi con Sadie Corvie questo suo agire nell'ombra traffico nell'ombra qua è all'ennesima potenza e trovo tutto molto molto intenso e molto bello io non vedo l'ora esca al prossimo e spero esca presto cosa che non succederà ma è una delle serie più intelligenti più originali anche sicuramente uscite quest'anno e anzi trovo che segua molto poco i filoni di trend che siano stati messi in piedi ultimamente è una scelta coraggiosa ma che sicuramente se amate gli ambienti dark se amate le ispirazioni gotiche se vi piacciono gli elementi soprannaturali come i fantasmi le sette i culti segreti la magia è un volume incredibile c'è tutta la mia recensione completa che vi linkerò da qualche parte se mi ricordo è bellissimo bellissimo nonostante i difetti che insomma io trovo sempre anche nelle cose che amo molto è bellissimo siamo arrivati in fondo finalmente sono molto contenta che questo libro sia qui perché ci tenevo più di ogni cosa al mondo io trovo che ultimamente alcuni scrittori che io amo molto siano presi dalla fretta nello scrivere che capisco che siano esigenti tutti dobbiamo pagare le bollette ci sono questi deal con i propri editori che sono molto stringenti e complessi però insomma tutto ciò per dire che quest'anno e l'anno scorso due delle mie scrittrici preferite cioè Madeleine Miller prima e Erin Morgenstern dopo sono tornate dopo più di dieci anni dalla scrittura dell'ultimo volume e ho trovato in entrambe che questo tempo sia stato il tempo più giusto per poter mettere a terra le loro storie e se Madeleine Miller è stata una conferma molto rincuorante perché ha scritto Circe e io Circe l'anno scorso l'ho amato sopra ogni cosa sapete che è stato in cima alla mia top dei libri del 2018 allora quest'anno c'è riuscita Erin Morgenstern e questa è la cosa più rincuorante degli ultimi anni perché Night Circus che abbiamo letto anche insieme per il Miss Fiction Book Club numero uno peraltro è stato uno dei libri che io ho più amato negli ultimi dieci anni e lo trovo originale lo trovo bellissimo dal punto di vista della scrittura lo trovo qualcosa che ti rimane perché è qualcosa di potente è qualcosa di inusuale diverso fuori dalle righe che richiama però un immaginario che a me è molto caro e la fascinazione di tutto ciò che si porta dietro insomma aveva tante cose per me incredibilmente preziose quest'anno è uscito The Starless Sea che verrà pubblicato a giugno in Italia credo che si chiamerà Il mare senza stelle non ne sono certa per fazzi editore però io qui lo dico io penso che sarà il libro migliore dei prossimi dieci anni l'ho detto l'ho detto l'ho detto almeno nel panorama fantasy un po' in senso ampio presto seguirò anche una mia recensione completa però in tutto ciò The Starless Sea è un viaggio magico è un ode proprio appassionatamente innamorata devota e soprattutto non so come dire piena di di gratitudine per la lettura è un viaggio che vuole insomma essere un tributo alle storie alla la lettura alle favole alle fiabe e a tutti i racconti che ci accompagnano ci accompagneranno che purtroppo non abbiamo incrociato durante le nostre vite è un libro magnifico a mio parere ve lo giuro quasi perfetto sotto ogni punto di vista la scrittura della Erin è sempre incredibile ma devo dire che in questo caso ciò che spicca anche in maniera migliore rispetto a Night Circus è la pianificazione ogni elemento ogni simbologia ogni piccola parola ogni frase ogni citazione si inquadrano in un progetto che dura tutto il libro che è incastrato perfettamente Erin Morgenstern è piena di chiavi che apre mano a mano e svela parte del proprio universo parte della propria storia di svelandone i misteri come ogni vera grande storia sa fare a mio parere e è un tributo bellissimo a tutto ciò che significa leggere significa la lettura e la letteratura una devozione tale a tutto ciò che ci rende lettori ci gratifica come lettori e vogliamo come lettori e De Starless Sea che è questo mare senza stelle dove le storie vanno a morire fondamentalmente è magnifico è il libro più bello letto da anni è il libro che sarà per me e spero per tanti di voi il libro che vi accompagnerà per tanti anni perché non è un libro che si fa dimenticare non è una storia banale non è una storia che rincorre il trend non è una storia che è simile a nulla per tanti versi ha tributo a tanti ma non si non si va a identificare con nulla e Erin Morgenstern è migliorata molto anche rispetto a un capolavoro come quello di Night Circus e sono così felice ve lo giuro sono felicissima che questo sia un libro magnifico non vedo l'ora di girare la recensione perché mi ha dato tanti spunti e io sono sicura che se avete amato Night Circus questo cioè alla pagina 3 sarà il libro della vostra vita se non vi è piaciuto Night Circus per motivi soprattutto di confusione della trama che è quello che posso capire questo è una trama molto più lineare solamente intervallata da alcuni racconti quindi sarà ancora più facile seguirla se invece cioè dovete proprio immezzarvi in questa storia lasciarvi trasportare dal sogno credo che non esista una scrittura così immersiva elegante piena e ricca di di magia come quella di Erin Morgenstern mi ha rincorato moltissimo sono solo molto triste di non averla mai incontrata però raga bellissimo bellissimo il libro dell'anno proprio a mani basse ne sono molto molto felice e orgogliosa e niente bene prima che io vado avanti negli sproloqui mi metto a pazzigare perché non è il pazzigare scusate piangere e devo dire che questa è tutta la mia classifica questi sono sicuramente i punti più alti di quest'anno insomma tanti libri belli tante graphic novel bellissime e sono molto molto contenta e io direi che insomma ci tenevo un po' a fare un recap per chi non avesse seguito tutto perché è arrivato da poco in generale per chi vuole un recap delle cose belle da segnarsi e direi che insomma questo è tutto sono molto curiosa di sapere invece quali sono stati i vostri libri preferiti o se tra quelli che ho citato ce n'è qualcuno e io direi che per ora è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao